Lezione 1. Perché non sei andato alla festa ieri sera? Anna, perché non sei andata alla festa ieri sera invece di studiare? Beh, John, avevo un esame importante in arrivo, quindi ho deciso di dare priorità ai miei studi. Ma le feste possono essere molto divertenti. Non ti senti come se te lo fossi perso? A volte dobbiamo fare delle scelte e dare priorità alle nostre responsabilità. Lo capisco, ma studiare tutto il tempo può essere faticoso. Non hai bisogno di una pausa? Le pause sono importanti, ma in quel momento sentivo che era necessario concentrarmi sui miei obiettivi accademici. Ti sei preso almeno un po' di tempo per rilassarti e distenderti dopo aver studiato? Sì, l'ho fatto. Ho fatto delle brevi pause per ricaricarmi e ho praticato la cura di me stesso per tutto il giorno. È bello sentirlo. È essenziale trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero. Sono d'accordo, John. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale per mantenere il benessere generale. Sei riuscito a fare progressi con i tuoi studi? Sì, ho fatto buoni progressi e mi sentivo più sicuro dell'imminente esame. Questo è fantastico. A volte è importante dare priorità ai nostri obiettivi a lungo termine rispetto al divertimento a breve termine. Esattamente, John. Sacrificare la gratificazione immediata può portare a maggiori ricompense in futuro. Ammiro la tua dedizione e disciplina, Anna. Non tutti possono fare scelte del genere. Grazie, John. Non è sempre facile, ma credo nel valore del duro lavoro e della perseveranza. Sono sicuro che i tuoi sforzi saranno ripagati e raggiungerai i tuoi obiettivi accademici. Lo spero, John. Sto facendo del mio meglio per rimanere concentrato e motivato. Ricordati solo di fare delle pause e divertirti anche lungo la strada. Assolutamente, John. Farò in modo di trovare un sano equilibrio tra lavoro e divertimento. Questo è lo spirito, Anna. Continuate così e non dimenticate di prendervi cura di voi stessi. Grazie per il sostegno, John. Lo apprezzo. Lezione 2. Sembri così assonnata oggi. Anna, sembri così assonnata oggi. Ti sei riposato abbastanza ieri notte? No, John. Non riuscivo ad addormentarmi, così alla fine dormivo meno del solito. Capisco. La mancanza di sonno può farci sentire stanchi e pigri. Sì, è difficile rimanere concentrati e vigili quando si dorme poco. Hai provato qualche strategia per aiutarti a dormire meglio? Ho provato a bere una tisana e a leggere un libro prima di andare a letto, ma ieri sera non sembravano funzionare. Potrebbe essere utile stabilire una routine per andare a dormire e creare un ambiente rilassante nella tua camera da letto. Buona idea, John. Cercherò di sviluppare una routine costante per segnalare al mio corpo che è ora di dormire. Anche evitare la caffeina e i dispositivi elettronici prima di andare a letto può contribuire a dormire meglio. Ridurrò sicuramente la caffeina e limiterò il tempo davanti allo schermo prima di andare a letto. È anche importante avere un materasso e un cuscino comodi per sostenere una buona postura durante il sonno. Devo controllare se il mio materasso e il mio cuscino devono essere sostituiti. Potrebbero influire sulla mia qualità del sonno. Inoltre, l'esercizio fisico regolare durante il giorno può aiutare a favorire un sonno migliore durante la notte. Cercherò di incorporare più attività fisica nella mia routine quotidiana per migliorare il mio sonno. Ricorda che un sonno di qualità è essenziale per il nostro benessere generale e la nostra funzione cognitiva. Hai ragione, John. Ho bisogno di dare priorità al sonno per assicurarmi di essere al meglio durante il giorno. Se hai costantemente problemi a dormire, potrebbe essere una buona idea consultare un operatore sanitario. Questa è una buona osservazione. Possono fornire ulteriori indicazioni e valutare se vi sono problemi di fondo. Nel frattempo, prova a fare brevi sonnellini energetici durante il giorno per aiutarti a ricaricarti. Lo terrò a mente, John. Un breve sonnellino potrebbe aiutarmi a recuperare un po' di energia. Non preoccuparti, Anna. Sono sicuro che dormirai bene questa notte e ti sentirai riposato domani. Grazie per il sostegno, John. Lo spero anch'io. Lezione 3. Qual è il tuo tipo di cibo preferito? Anna, qual è il tuo tipo di cibo preferito? Mi piace molto il pesce, John. È il mio preferito. I frutti di mare possono essere davvero deliziosi. Quali piatti specifici a base di pesce ti piacciono? Adoro il salmone alla griglia, gli scampi con gamberetti e la zuppa di aragosta. Sembrano incredibili. Hai qualche ristorante di pesce preferito? Sì, c'è un ristorante di pesce in centro che serve i migliori piatti di pesce. Dovrò provarlo qualche volta. Cosa ti piace di più del pesce? Adoro i sapori freschi e la varietà di consistenze dei piatti a base di pesce. Ci sono benefici per la salute nel mangiare pesce? Sì, i frutti di mare sono un'ottima fonte di acidi grassi omega 3, che fanno bene alla salute del cuore. È bello saperlo. È sempre un vantaggio quando qualcosa che ti piace fa bene anche a te. Sicuramente. Inoltre, i frutti di mare possono essere un'opzione più leggera e salutare rispetto ad altre carni. Hai mai provato piatti esotici a base di pesce? Ho provato il sushi con pesce crudo, un'esperienza unica per me. Il sushi è delizioso. È fantastico che tu sia aperto a provare cose nuove. Esplorare sapori e cucine diverse è una delle gioie di essere un amante del cibo. Hai qualche ricetta di pesce preferita che ti piace cucinare a casa? Mi piace preparare gamberetti al burro all'aglio, e pesce alla griglia le erbe aromatiche al limone. Sembrano ricette gustose e semplici. Dovrò provarli. Dovresti, John. Cucinare frutti di mare a casa può essere divertente e gratificante. Ci sono piatti a base di pesce che non hai mai provato ma che vorresti provare? Ho sempre voluto provare una paella tradizionale, i frutti di mare o un bollito di frutti di mare. Sono entrambe ottime scelte. Sono piatti popolari e saporiti. Non vedo l'ora di provarli un giorno. Il pesce mi rende sempre felice. È meraviglioso avere un cibo preferito che ti dà gioia. I frutti di mare sembrano sicuramente fare questo per te, Anna. Assolutamente, John. Sono i sapori, la freschezza e l'esperienza complessiva che rendono i frutti di mare speciali per me. Sono felice che tu abbia trovato qualcosa che ti piace. È sempre bello avere un preferito. Grazie, John. Mi sento fortunato ad avere un piatto preferito così delizioso. Lezione 4. Cosa c'è che non va con la macchina? Anna, cosa c'è che non va con la macchina? Sembra che stia emettendo strani rumori. Non ne sono sicuro, John. Anch'io ho notato il rumore. Diamo un'occhiata sotto il cofano. Pensi che possa essere un problema con il motore? È possibile. Dovremmo controllare i livelli dell'olio e vedere se ci sono perdite. Che ne dici delle gomme? Potrebbero essere loro a causare il rumore? Questa è una buona osservazione. Dovremmo ispezionare le gomme per eventuali segni di danneggiamento o usura. Ho anche notato una leggera vibrazione durante la guida. Potrebbe essere correlato? Sì, le vibrazioni potrebbero indicare un problema con le sospensioni o l'allineamento delle ruote. Dovremmo portarlo da un meccanico per farla diagnosticare correttamente? Potrebbe essere la cosa migliore da fare. Possono individuare il problema esatto e consigliare le riparazioni necessarie. Spero non sia niente di troppo serio. I problemi con la macchina possono essere stressanti. Capisco, John. Restiamo ottimisti e facciamolo esaminare il prima possibile. Hai un meccanico di fiducia a cui ti rivolgi di solito? Sì, ho un meccanico affidabile che mi ha già aiutato con problemi con la macchina. Questo è rassicurante. Possiamo portare loro l'auto e chiedere il loro parere da esperto. Dovremmo anche chiedere informazioni sulla manutenzione regolare per prevenire problemi futuri. Buona idea. È importante tenere il passo con la manutenzione ordinaria per evitare problemi imprevisti. Assolutamente, John. Cambi d'olio regolari, rotazioni degli pneumatici e controlli dei fluidi possono contribuire notevolmente a mantenere l'auto in buone condizioni. Si spera che sia un problema minore e che ripararlo non costi troppo. Restiamo ottimisti, John. Meglio affrontare il problema ora che lasciarlo peggiorare. Sono d'accordo, Anna. La sicurezza e il corretto funzionamento sono fondamentali quando si tratta di automobili. Una volta riparata l'auto, possiamo tornare alle nostre normali attività senza preoccupazioni. Sembra fantastico. Mi sentirò molto meglio sapendo che la macchina è in buone condizioni. Ce ne occuperemo, John. Si tratta solo di un intoppo temporaneo. Grazie, Anna, per avermi aiutato a risolvere questo problema con l'auto. Apprezzo il tuo supporto. Benvenuto, John. Stiamo affrontando questa situazione insieme. Rimettiamo presto in strada la macchina. Assolutamente, Anna. Insieme, lo risolveremo. Lezione 5. Sai cos'è la giornata della Terra? Anna, sai cos'è la giornata della Terra? Sì, John. La giornata della Terra è una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali. Quando si celebra la giornata della Terra? La giornata della Terra si celebra il 22 aprile di ogni anno. Questo è grandioso. Com'è iniziata la giornata della Terra? La giornata della Terra è stata celebrata per la prima volta nel 1970, per attirare l'attenzione sulle preoccupazioni ambientali e promuovere la protezione dell'ambiente. Quali sono alcune attività che le persone svolgono durante la giornata della Terra? Le persone partecipano a varie attività come piantare alberi, ripulire i rifiuti e organizzare campagne di sensibilizzazione ambientale. Perché è importante celebrare la giornata della Terra? La giornata della Terra ci ricorda l'importanza di prenderci cura del nostro pianeta, e ci incoraggia a fare scelte sostenibili. Le persone possono fare la differenza nella giornata della Terra? Assolutamente, John. Ogni persona può contribuire apportando piccoli cambiamenti nella propria vita quotidiana per ridurre il proprio impatto ambientale. Esistono eventi o iniziative globali legati alla giornata della Terra? Sì, ci sono eventi e iniziative internazionali incentrati sulla conservazione e la sostenibilità dell'ambiente. Come posso partecipare alle attività della giornata della Terra? Puoi partecipare agli eventi locali della giornata della Terra, fare volontariato per organizzazioni ambientaliste o semplicemente fare scelte ecologiche. Quali sono alcuni esempi di scelte ecologiche che possiamo fare? L'uso di sacchetti riutilizzabili, il risparmio di acqua ed energia e il riciclaggio sono alcuni semplici modi per essere più rispettosi dell'ambiente. Esistono obiettivi a lungo termine associati alla giornata della Terra? Uno degli obiettivi a lungo termine è creare un futuro più sostenibile affrontando il cambiamento climatico e proteggendo la biodiversità. Questo è importante. È fondamentale agire per il benessere del nostro pianeta. Davvero, John? La giornata della Terra ci ricorda che tutti condividiamo questo pianeta, e abbiamo la responsabilità di preservarlo. Sono lieto che la giornata della Terra sensibilizzi su questi temi. È un passo nella giusta direzione. Assolutamente, John. Più le persone sono consapevoli, più è probabile che apportiamo cambiamenti positivi. Facciamo uno sforzo per celebrare la giornata della Terra e contribuire a un mondo più verde e più sano. Sono con te, John. Insieme, possiamo fare la differenza per il nostro pianeta. Lezione 6. Hai visto le fragole fresche al supermercato oggi? Anna, hai visto le fragole fresche al supermercato oggi? Sì, John. Sono a un prezzo molto buono in questo momento. È fantastico. Adoro le fragole. Sono così deliziose. Sono d'accordo, John. Sono uno dei miei frutti preferiti. Sono maturi e dolci? Sì, sembrano maturi e succosi. Penso che saranno davvero dolci. Dovremmo prenderne un po' e preparare un dessert alla fragola. Sembra un'ottima idea. Dolcetti alla fragola, magari? Lo shortcake alla fragola sembra perfetto. Non posso resistere a quei soffici biscotti e alle fragole fresche. È un dessert classico che è sempre un successo. Sono entusiasta di farlo. Prendiamo qualche contenitore di fragole. Possiamo mangiarne un po' adesso e conservarne un po' per il dessert. Buon piano, John. Più fragole ci sono, meglio è. Hai altre ricette preferite a base di fragole? Mi piace preparare frullati di fragole e marmellata di fragole. I frullati alla fragola sono rinfrescanti, soprattutto durante l'estate. Assolutamente, John. È un ottimo modo per rinfrescarsi e godersi la dolcezza delle fragole. E la marmellata di fragole fatta in casa è perfetta da spalmare su pane tostato o focaccine. È una delizia deliziosa da consumare a colazione o per il tè pomeridiano. Non vedo l'ora di provare tutte queste ricette a base di fragole. Anche io, John. Sarà una delizia ripiena di fragole. Andiamo al supermercato a prendere quelle fragole fresche prima che finiscano. Sì, non lasciamoci sfuggire questa fantastica offerta. Le fragole sono troppo buone per resistere. Sono contento che abbiamo colto questa opportunità. È come trovare un tesoro. Davvero, John. È sempre emozionante scoprire offerte vantaggiose sui nostri cibi preferiti. Sfrutteremo al massimo queste fragole e ci godremo ogni boccone. Assolutamente, John. Assaporiamo la dolcezza di questa delizia stagionale. Grazie per avermi fatto sapere delle fragole, Anna. Sei il migliore. Benvenuto, John. Sono sempre felice di condividere con voi le buone scoperte culinarie. Andiamo e realizziamo quei sogni con le fragole. D'accordo, John. Andiamo a prendere quelle fragole e assaggiamo la loro prelibatezza. Lezione 7. Che ne dici di andare in un ristorante di cucina italiana stasera? Anna, che ne dici di andare in un ristorante italiano stasera? Sembra un'ottima idea, John. Ho voglia di un po' di cucina italiana. Hai in mente qualche ristorante italiano in particolare? Sì, c'è un'accogliente trattoria italiana in centro che volevo provare. Sembra perfetto. Adoro provare nuovi ristoranti. Anche io, John. Esplorare cucine diverse è sempre emozionante. Quali sono alcuni piatti italiani che ti piacciono? Adoro i piatti di pasta come gli spaghetti alla carbonara e le lasagne. Sembrano deliziosi. Sono un fan della pizza e del risotto. La pizza e il risotto sono i classici preferiti italiani. Abbiamo molte opzioni tra cui scegliere. Hai qualche dolce italiano preferito? Il tiramisù è il mio dolce italiano preferito in assoluto. È ricco e cremoso. Il tiramisù è paradisiaco. Mi piacciono anche i cannoli e la panna cotta. Sono ottime scelte. I dolci italiani sono sempre così deliziosi. Facciamo una prenotazione per stasera? Sì, assicuriamoci un tavolo così non dovremo aspettare. Qual è l'orario migliore per te? Che ne dici delle 19 e 30? Funziona per te? Le 19 e 30 sembrano perfette. Effettuerò subito la prenotazione. Grazie, John. Non vedo l'ora di trascorrere una deliziosa serata di cucina italiana. Sarà un'esperienza culinaria fantastica, Anna. Non vedo l'ora. Nemmeno io, John. Il cibo italiano porta sempre tanta gioia. Sono felice che stiamo esplorando diverse cucine insieme. È un modo divertente per creare legami. Assolutamente, John. Il cibo ha il potere di avvicinare le persone. Sono grata di avere un amante del cibo come te come amica, Anna. Grazie, John. Il sentimento è reciproco. Godiamoci la nostra avventura gastronomica italiana stasera. Sicuramente, Anna. Sarà una serata memorabile piena di sapori deliziosi. Lezione 8. Penso che dovremmo mangiare meno gelati. Anna, penso che dovremmo mangiare meno gelati. Sono d'accordo, John. Ne abbiamo abbastanza spesso ultimamente. Mangiare troppo gelato non fa bene alla salute. Questo è vero. È ricco di zuccheri e calorie. Dovremmo concentrarci su una dieta equilibrata. Includere più frutta e verdura sarebbe una buona idea. Ho sentito che lo yogurt con gelato è un'alternativa più salutare al gelato. Sì, lo yogurt con gelato ha meno grassi e calorie. Possiamo anche provare a preparare il nostro gelato più sano a casa. Questo è un ottimo suggerimento. Possiamo usare ingredienti naturali e controllare il contenuto di zucchero. Limitiamo i nostri gelati alle occasioni speciali. Sembra ragionevole. Possiamo gustarlo come indulgenza occasionale. Dovremmo trovare altri modi per soddisfare la nostra voglia di dolci. La frutta fresca o un pezzetto di cioccolato fondente possono essere opzioni più salutari. È importante prendersi cura del proprio corpo e fare scelte consapevoli. Assolutamente, John. La nostra salute dovrebbe sempre essere una priorità. Sosteniamoci a vicenda per mangiare in modo più sano. Sono con te, John. Possiamo incoraggiarci a vicenda a fare scelte migliori. Riducendo il consumo di gelato, ci sentiremo meglio e avremo più energia. Sono d'accordo, John. Vale la pena fare il cambiamento per il nostro benessere. Grazie, Anna, per essere stata la mia partner nel fare scelte più sane. Benvenuto, John. Insieme, possiamo condurre uno stile di vita più sano. Lezione 9. Devo andare in banca oggi. Anna, devo andare in banca oggi. Cosa devi fare in banca, John? Devo depositare un assegno e prelevare del contante. Hai con te tutti i documenti necessari? Sì, ho l'assegno e la mia identificazione pronti. È importante proteggere la tua identificazione. Assolutamente, mi assicuro sempre di tenerlo al sicuro. C'è qualcos'altro che devi fare in banca? Devo anche chiedere informazioni su un nuovo conto di risparmio. Questa è una buona idea. Risparmiare denaro è importante per il futuro. Sono d'accordo, Anna. È sempre bene avere dei risparmi. Hai cercato diverse opzioni di conto di risparmio? Sì, ho cercato alcune banche e i loro tassi di interesse. È consigliabile confrontare le tariffe e trovare l'opzione migliore per te. Sicuramente, Anna. Voglio assicurarmi che i miei soldi crescano nel tempo. Hai in mente una banca specifica? Ho sentito parlare bene di una banca locale vicino al mio posto di lavoro. È comodo avere una banca nelle vicinanze. Sì, mi farà risparmiare tempo e semplificherà le operazioni bancarie. Ricordati di chiedere informazioni su eventuali commissioni o requisiti per il conto di risparmio. Questa è una buona osservazione, Anna. Mi assicurerò di ottenere tutte le informazioni necessarie. C'è qualcos'altro che devi fare in banca? No, per oggi è tutto. Solo il deposito con assegno, il prelievo di contanti e le informazioni sul conto di risparmio. Va bene, John. Spero che la tua visita in banca proceda senza intoppi. Grazie, Anna. Ti ringrazio per i tuoi auguri. Benvenuto, John. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto o hai domande. Lo farò, Anna. Grazie per il supporto. Buona fortuna in banca, John. Abbi cura di te. Grazie, Anna. Abbi cura anche tu. Lezione 10. Perché non usi la tua macchina? Anna, perché non usi la tua macchina? Beh, John, preferisco usare i mezzi pubblici. Quali sono i motivi alla base della tua preferenza? L'uso dei mezzi pubblici consente di risparmiare denaro sulla benzina e sul parcheggio. Questo è vero. Può essere più conveniente. È anche migliore per l'ambiente, poiché riduce le emissioni di carbonio. Capisco. Quindi, dai priorità alla sostenibilità. Sì, credo nella riduzione al minimo della mia impronta di carbonio. Trovi comodo il trasporto pubblico? Sì, è comodo per me. Non devo preoccuparmi del traffico o della ricerca di parcheggi. Questa è una buona osservazione. Può essere stressante guidare nel traffico. Il trasporto pubblico mi permette anche di rilassarmi o svolgere altre attività durante il tragitto giornaliero. Posso capire il fascino di ciò. È produttivo ed efficiente in termini di tempo. Esattamente. Mi dà l'opportunità di leggere, ascoltare musica o recuperare il ritardo sul lavoro. Ci sono degli svantaggi nell'uso dei mezzi pubblici? A volte possono verificarsi ritardi o sovraffollamento nelle ore di punta. Immagino che possa essere frustrante. Può esserlo, ma nel complesso, i vantaggi superano gli svantaggi per me. Hai mai pensato di avere un'auto per situazioni specifiche? Sì, per determinate situazioni, come viaggi più lunghi o trasporto di oggetti pesanti, un'auto può essere utile. Quindi, ti affidi ad altre opzioni di trasporto per la maggior parte delle tue esigenze quotidiane. Questo è corretto. I trasporti pubblici e altre alternative soddisfano bene le mie esigenze. È fantastico che tu abbia trovato un approccio di trasporto adatto a te. Grazie, John. Si tratta solo di trovare ciò che si adatta al tuo stile di vita e ai tuoi valori. Ammiro il tuo impegno per la sostenibilità e la praticità. Grazie, John. Per me è importante fare scelte in linea con i miei valori. Lo terrò a mente quando prenderò in considerazione le mie opzioni di trasporto. Trova solo ciò che funziona meglio per te, John. Ognuno ha esigenze e preferenze diverse. Apprezzo il tuo punto di vista, Anna. Mi dà qualcosa a cui pensare. Benvenuto, John. Se avete domande o avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a chiedere. Lo farò, Anna. Grazie per l'approfondita conversazione. Benvenuto, John. È stato un piacere. Lezione 11. Ami il tè o il caffè? Anna, ti piace il tè o il caffè? Preferisco il tè. C'è qualcosa di rilassante in una bella tazza di tè. Cosa ti piace del caffè? Mi piace il sapore ricco e audace del caffè. Mi dà una sferzata di energia al mattino. Trovo che il tè sia più rilassante. Mi aiuta a rilassarmi e a rilassarmi. Questo è vero. Il tè ha un effetto calmante, in particolare le tisane come la camomilla o la menta piperita. Il caffè ha diverse varianti come cappuccino ed espresso. È abbastanza versatile. Sì, ci sono molti modi per gustare il caffè, dal latte macchiato al caffè freddo. Anche il tè ha un'ampia varietà. Il tè verde, il tè nero, e le tisane offrono sapori e benefici per la salute diversi. Ci sono benefici per la salute associati al caffè? Si dice che il caffè abbia antiossidanti, e possa fornire un temporaneo aumento della vigilanza. Il tè, d'altra parte, è noto per le sue proprietà antiossidanti, e i potenziali benefici per la salute. Hai un tipo di tè preferito? Mi piace il tè verde per il suo gusto leggero e rinfrescante. Mi piace una buona tazza di tè Earl Grey. Il sapore aromatico è delizioso. Come prendi il caffè? Di solito aggiungo una spruzzata di latte e un po' di zucchero per bilanciare l'amaro. Preferisco il mio caffè nero, o con un tocco di crema. Mi piace assaggiare i sapori naturali. Hai mai provato ad aggiungere spezie come cannella o noce moscata al tuo caffè? Non ancora, ma sembra interessante. Ci proverò. Hai provato miscele o infusi di tè unici? Sì, ho provato tè alla frutta come miscele di frutti di bosco o agrumi. Aggiungono un tocco rinfrescante. Hai una caffetteria o una sala da tè preferita? Mi piace esplorare le caffetterie e le case da tè locali. È divertente scoprire nuovi sapori e atmosfere accoglienti. È bello avere una bevanda calda e una buona compagnia, che si tratti di tè o caffè. Assolutamente, John. Un semplice piacere che può rallegrare la giornata. Complimenti al nostro amore per le bevande calde, Anna. Saluti, John. Siamo bravi a gustare tè e caffè nei nostri modi unici. Lezione 12. Stavo pensando di assumere un nuovo assistente per il nostro team. Anna, stavo pensando di assumere un nuovo assistente per il nostro team. Cosa ne pensi? Ottima idea, John. Avere un assistente aggiuntivo può aiutarci a gestire il nostro carico di lavoro in modo più efficiente. Quali qualità e competenze dovremmo cercare in un nuovo assistente? Dovremmo cercare qualcuno che sia organizzato, affidabile e con eccellenti capacità di comunicazione. È importante che l'assistente impari velocemente e si adatti a diverse attività. Assolutamente. Flessibilità e capacità di multitasking sarebbero caratteristiche preziose. Dovremmo dare priorità all'esperienza o al potenziale? L'ideale sarebbe trovare qualcuno con una combinazione di esperienza e potenziale di crescita. Come possiamo assicurarci un buon rapporto con il nostro team? Condurre interviste e porre domande pertinenti può aiutarci a valutare la loro compatibilità con il nostro ambiente di lavoro. Dovremmo anche considerare la loro capacità di lavorare bene in team e collaborare con gli altri. Sì, il lavoro di squadra e un atteggiamento positivo sono essenziali per un ambiente di lavoro armonioso. E le competenze tecniche? Esistono software o strumenti specifici con cui dovrebbero avere familiarità? Sarebbe utile se fossero esperti nei comuni software per ufficio come Microsoft Office o Google Suite. Inoltre, la conoscenza degli strumenti di gestione dei progetti o del software specifico del settore può essere un vantaggio. Come possiamo rendere il processo di assunzione equo e imparziale? Possiamo stabilire criteri chiari, condurre colloqui strutturati e valutare i candidati in base alle loro qualifiche. È importante dare a ciascun candidato un'equa possibilità e valutarlo in modo obiettivo. Assolutamente. Dovremmo concentrarci sulle loro capacità, esperienze e potenzialità piuttosto che sui pregiudizi o sulle preferenze personali. Una volta che avremo un nuovo assistente, come possiamo assicurarci che si integri bene nel team? Possiamo assegnare loro un mentore o un amico per fornire assistenza e supporto durante il processo di un boarding. Riunioni regolari del team e una comunicazione aperta possono anche contribuire a promuovere il senso di appartenenza. È importante fornire aspettative e feedback chiari per aiutare il nuovo assistente ad avere successo nel proprio ruolo. Dovremmo creare un ambiente accogliente e inclusivo in cui tutti si sentano apprezzati e supportati. Sicuramente, John. Una cultura lavorativa positiva e vantaggiosa sia per la squadra che per il nuovo assistente. Iniziamo il processo di assunzione e troviamo l'assistente perfetta per entrare a far parte del nostro team, Anna. Sembra un piano, John. Sono felice di dare presto il benvenuto a un nuovo membro nel nostro team. Lezione 13. Hai mai giocato a baseball prima? Anna, hai mai giocato a baseball prima? Sì, John. Giocavo a baseball quando ero più giovane. Questo è fantastico. In che posizione giocavi? Ho giocato principalmente come esterno. Cosa ti piace di più del giocare a baseball? Adoro il lavoro di squadra e l'emozione di colpire la palla. Hai qualche consiglio per migliorare le abilità di battuta? Pratica lo swing regolarmente e concentrati sulla coordinazione occhio-mano. Che ne dici di fielding? Qualche consiglio per diventare un difensore migliore? Migliora la tua agilità ed esercitati a catturare e lanciare con precisione. Ci sono regole specifiche nel baseball che possono essere difficili da capire? La regola in field fly e la book rule possono creare un po' di confusione. È importante familiarizzarsi con loro. Qual è il tuo ricordo preferito del baseball? Vincere una partita di campionato con la mia squadra è sicuramente un ricordo prezioso. Deve essere stato un momento emozionante. Sei stato a qualche partita di baseball professionistica? Sì, sono stato a qualche partita della Major League Baseball. L'atmosfera è elettrica. Ho sempre voluto assistere a una partita di baseball dal vivo. Deve essere un'esperienza fantastica. È molto divertente, John. L'energia del pubblico e il brivido del gioco sono indimenticabili. Ci sono giocatori di baseball famosi che ammiri? Ammiro giocatori come Babe Ruth e Jackie Robinson per il loro impatto su questo sport. Hai una squadra di baseball preferita? Sono sempre stato un fan dei New York Yankees. È una squadra popolare con una ricca storia. Sostengo i Boston Red Sox. Ah, gli Yankees e i Red Sox hanno una bella rivalità. Rende i giochi ancora più emozionanti. In effetti, la rivalità tra Yankees e i Red Sox è leggendaria nel baseball. Hai mai giocato in un torneo di baseball? Sì, ho partecipato a tornei di baseball locali. Sono un ottimo modo per mostrare le proprie abilità e competere. I tornei possono essere intensi, ma offrono anche preziose esperienze di apprendimento. Assolutamente. È un'opportunità per mettersi alla prova e crescere come giocatore. Organizziamo un'amichevole partita di baseball con i nostri amici qualche volta, John. Sembra un'idea fantastica, Anna. Sarà un modo divertente per godersi lo sport insieme. Non vedo l'ora, John. Organizziamo una giornata memorabile giocando a baseball. Lezione 14. Hai mai avuto paura degli squali? Anna, hai mai avuto paura degli squali? Sì, John. Gli squali possono essere creature intimidatorie. Cosa ti spaventa di più degli squali? I loro denti affilati e la loro potente presenza nell'acqua possono essere piuttosto inquietanti. Hai mai visto uno squalo da vicino? Fortunatamente, li ho visti solo negli acquari o in tv. Pensi che gli squali siano tanto pericolosi quanto li ritraggono nei film? Non tutti gli squali sono pericolosi. La maggior parte delle specie non rappresenta una minaccia per l'uomo. Questo è vero. Gli squali svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi marini. Ma è comunque importante essere cauti quando si nuota in aree in cui è noto che abitano gli squali. Esistono precauzioni che possiamo prendere per ridurre il rischio di incontrare squali? Evita di nuotare da solo o all'alba e al tramonto quando gli squali sono più attivi. Inoltre, segui le linee guida e le avvertenze locali. Cosa dobbiamo fare se ci troviamo faccia a faccia con uno squalo? È importante mantenere la calma ed evitare movimenti bruschi. Allontanati lentamente mantenendo il contatto visivo. È vero che dare un pugno sul naso a uno squalo può scoraggiare un attacco? Sì, mirare alle aree sensibili dello squalo come occhi, branchi o naso può potenzialmente scoraggiare un attacco. È bello conoscere queste tecniche, ma gli incontri con gli squali sono ancora rari. Assolutamente. Le possibilità di incontrare uno squalo sono molto basse per la maggior parte delle persone. Gli squali sono creature affascinanti, però. Esistono da milioni di anni. Sì, sono straordinari sopravvissuti e si sono adattati al loro ambiente nel corso di una lunga storia evolutiva. Hai mai fatto snorkeling o immersioni in acque dove sono presenti gli squali? No, non ne ho ancora avuto l'opportunità. Ma molte persone lo fanno e hanno esperienze incredibili con gli squali. Osservare gli squali nel loro habitat naturale può essere un'esperienza incredibile. Sicuramente, purché sia fatto in modo responsabile e con la guida di professionisti esperti. Conoscere meglio gli squali e il loro comportamento può aiutare ad alleviare parte della paura ad essi associata. Assolutamente, la conoscenza e la comprensione possono aiutarci ad apprezzare e rispettare queste magnifiche creature. Ricordiamoci che gli squali hanno un ruolo importante nell'oceano e che non vogliono attaccare gli umani. Sì, John. È importante convivere con gli squali, e proteggere il loro habitat per la salute generale dei nostri oceani. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri sugli squali, Anna. È stata una conversazione interessante. Benvenuto, John. È sempre bello discutere di argomenti affascinanti come questo con te. Lezione 15. Al liceo avevo un'insegnante che ammiravo molto. Anna. Al liceo avevo un'insegnante che ammiravo molto. Meraviglioso, John. Cosa ha reso questa insegnante così speciale per te? Era incredibilmente appassionata all'insegnamento e teneva sinceramente al successo dei suoi studenti. È bello avere un'insegnante appassionato del proprio lavoro. Che materia insegnava? Insegnava letteratura inglese e rendeva ogni lezione coinvolgente e stimolante. Aveva dei metodi di insegnamento unici che ti hanno colpito? Sì, ha incoraggiato le discussioni in classe e ci ha fatto riflettere in modo critico sui testi che stavamo studiando. Sembra un ottimo approccio per promuovere l'apprendimento attivo, e una comprensione più profonda. Sicuramente lo era. Ci ha anche incoraggiato a esprimere le nostre opinioni e ha sostenuto la nostra individualità. È importante che gli insegnanti creino uno spazio sicuro e inclusivo in cui gli studenti possano esprimersi. Assolutamente. Ha creato un ambiente scolastico positivo e solidale. Ha avuto attività o progetti memorabili che ti sono piaciuti? Avevamo un progetto in cui dovevamo creare i nostri racconti brevi. È stato molto divertente e ci ha permesso di essere creativi. Sembra un progetto fantastico. Aiuta a sviluppare capacità di scrittura e immaginazione. Sì, credeva nella promozione della nostra creatività e nell'aiutarci a trovare la nostra voce. Questo insegnante ha avuto un impatto duraturo sul tuo percorso accademico? Sicuramente. Il suo entusiasmo per la letteratura mi ha spinto a dedicarmi ulteriormente al college. È incredibile come un grande insegnante possa plasmare i nostri interessi e i nostri percorsi futuri. Mi ha anche insegnato preziose lezioni di vita sulla perseveranza e sul potere delle parole. Gli insegnanti hanno l'opportunità unica di fare una differenza positiva nella vita dei loro studenti. Mi sento fortunato ad aver avuto un insegnante così straordinario durante i miei anni formativi. È meraviglioso sentire come ti ha influenzato, John. Insegnanti come lei sono davvero speciali. Spero di diventare insegnante un giorno e avere un impatto simile sulla vita dei miei studenti. Questa è una nobile aspirazione, John. Sono sicuro che sarai un'insegnante fantastica. Grazie, Anna. Spero di ispirare e guidare i miei futuri studenti, proprio come il mio ammirato insegnante ha fatto per me. Non ho dubbi che lo farai, John. Il mondo ha bisogno di educatori dedicati e appassionati come te.